2, 1, 3, 2, 1, via! Hanno i suoi tempi, eh! Devono essere ispirati, sono partiti! Ok, è partito anche il cronometro! 10 secondi! Signori, mi raccomando, l'applauso ora per questi ragazzi! Vai, sono tutti con voi, non deludeteci! 25 35 40 45 50 55 60 61 62 63 64 64 Ce l'hanno fatta per un secondo! Mamma mia! 64 Grandi! Signori, un applauso fortissimo! Per questa squadra! La squadra della Serenissima! Serenissima di Venezia, insomma, anche vicini, dai! Ragazzi che tra l'altro hanno tribulato tantissimo!